Musica E' venerdì 3 agosto, amici di Telemolise, buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale. Questa mattina in regia, Michele Pece in apertura parliamo di economia. Il rapporto Svimez ha messo in evidenza la drammatica situazione socio-economica del Sud e quella tragica del Molise. Si tratta di dati statistici già noti ma ignorati dalla classe politica. Nessuna dichiarazione dalla Regione, mentre l'euro parlamentare Aldo Patriciello punta i piedi e chiede discontinuità con il passato. Ascoltiamo Giovanni Minicozzi. Il Sud è povero ma il Molise lo è ancora di più. Il dato drammatico è contenuto nelle anticipazioni dell'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, Svimez, del 2018 ma riferite all'anno 2017. Negli ultimi 16 anni circa 2 milioni di residenti sono emigrati al nord e in Europa. 600.000 giovani occupati in meno, raddoppio delle famiglie, 600.000 in cui sono tutti disoccupati, diritti fondamentali negati dalla sanità alla sicurezza all'istruzione, rallentamento dell'economia e della crescita del PIL, sacche ampie di emarginazione e degrado sociale, crescita del lavoro a bassa retribuzione dovuta alla dequalificazione e all'esplosione del part-time a tempo determinato. A stare peggio in questo contesto sono i giovani tra i 15 e i 34 anni che emigrano in massa circa un milione, dei quali il 16%, ovvero 150.000 laureati. Nel Molise va ancora peggio sui fronti dell'emigrazione giovanile, dell'occupazione, della povertà che affligge ormai circa 100.000 molisani, della sanità con forte mobilità passiva e lunghissime liste di attesa, con un PIL che ha perso lo 0,1% nel 2017, mentre nelle altre regioni del sud è cresciuto dell'1% con lo spopolamento delle aree interne. Una situazione tragica, insostenibile e sconfortante quella molisana che dovrebbe far vergognare che ha governato la regione negli ultimi dieci anni. Invece dai palazzi del potere tutti tacciono, tranne l'eurodeputato Aldo Patriciello, che sembra aver compreso la lezione dello Svimez. Un mezzogiorno che perde i suoi giovani e un territorio che perde il futuro, ha scritto in una nota l'eurodeputato di Forza Italia. Il drammatico calo demografico dell'ultimo decennio, testimonia che la questione meridionale è tutt'altro che risolta ed è inutile nascondersi dietro un dito. Fino a quando si continuerà a non affrontare seriamente il nodo della spereguazione enorme, ha spiegato Patriciello, sarà difficile arrestare l'emigrazione dei nostri giovani. Serve un vero e proprio piano Marshall per il sud, che sia frutto di una strategia tra Europa, governo e regioni. C'è bisogno di invertire la rotta e dare un segnale di forte discontinuità con il passato. I dati di questi ultimi giorni, ha concluso Aldo Patriciello, non fanno altro che certificare una realtà ben nota a tutti, ma che stranamente fa fatica a entrare nella priorità dell'agenda politica. Finalmente, aggiungiamo noi, qualcuno che punta i piedi rispetto a una situazione di grave emergenza. Ora attendiamo con ansia i commenti dei politici regionali. Il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha firmato un'ordinanza con cui si vieta l'apertura sul territorio comunale di negozi e punti vendita al dettaglio di prodotti a base di cannabis, cannabis light e canapa legale a meno di 500 metri da aree sensibili, di quali istituti scolastici, luoghi di culto, strutture a carattere culturale e sportivo, strutture sanitarie ed ospedaliere residenziali o semiresidenziali, stazioni ferroviarie e terminal bus. Un'ordinanza che ricalca le prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l'esercizio del gioco lecito. L'ordinanza che tutela la salute dei cittadini ha una durata di 90 giorni, in attesa che l'apposita commissione stili un regolamento ad hoc che dovrà essere approvato in Consiglio Comunale. E si parlerà di valorizzazione dei beni culturali alla luce delle riforme Franceschini nel convegno di studi oggi pomeriggio alle 17.30 al Santuario di Santa Maria del Canneto. Saranno presenti i grandi nomi del mondo accademico specializzati in legislazione dei beni culturali. Ascoltiamo Marta Martino. Un convegno di studi sul tema della valorizzazione dei beni culturali alla luce delle riforme Franceschini presso il Santuario di Santa Maria del Canneto a cui parteciperanno accademici specializzati in legislazione dei beni culturali, nonché l'avvocato vice generale dello Stato Giuseppe Albenzio che ha trattato in prima persona il contenzioso amministrativo sulla nomina dei direttori dei poli museali da poco conclusosi con l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato lo scorso 25 giugno. L'evento prende spunto dalle recenti riforme Franceschini. Da pochi giorni ad esempio si discute sulla chiusura dei musei gratuiti al pubblico e insomma di tante altre riforme che hanno coinvolto in generale l'amministrazione culturale dei beni culturali, in modo particolare il tema della valorizzazione dei beni culturali nel Molise. Ci saranno dei relatori prestigiosi. A parte Albenzio ci saranno altri professori, insigni professori del mondo accademico, solo per fare un esempio il professor Budelli dell'Università di Perugia, il professor Morrone dell'Università di Chieti. Cercheremo di fare valorizzazione, perché in fondo la valorizzazione cos'è? Non è altro che la migliore conoscenza, conoscibilità del bene culturale, fruibilità dello stesso. I lavori del convegno verranno poi raccolti in un libro, insieme agli scatti fotografici dei più bei posti del Molise. Durante l'incontro si affronterà anche il tema della recente decisione del Ministro dei Beni Culturali di abolire le domeniche gratis nei luoghi di cultura. Il tema è delicato perché riguarda il connubio, non sappiamo se felice o meno, al momento pare non esserlo, tra due tematiche importanti sulla valorizzazione, cioè comprendere se per valorizzazione di un bene culturale si debba intendere il suo migliore godimento, la sua migliore fruibilità del bene e quindi appunto permetterne l'accesso a tutti, a chiunque in modo universale, oppure se per valorizzazione dovesse intendersi, come dire, il cercare di ottenere le maggiori entrate finanziarie possibili. Ovviamente sono due anime contrapposte. Ed è tutto pronto a Frosolone per la nuova edizione della Notte Arancione che dalle 18 e fino a tardi animerà l'intero centro storico di uno dei borghi più belli d'Italia. Sono previsti percorsi enogastronomici, botteghe, un mercatino animazione e musica e DJ set con discoteca all'aperto fino a Notte Fonda. Bene, con questo è tutto per l'informazione. Adesso passiamo alla rassegna stampa. Andiamo subito sulla home page del giornale del Molise. Si parla di economia in apertura. Il pezzo è a firma di Anna Maria, di Matteo, rapporto Svimez. Il Sud ancora in difficoltà, ma ci sono segnali di ripresa. Intanto il Molise è fermo. Diamo lo sguardo adesso alle altre notizie in evidenza. Disabili dalla Regione, fondi per l'assistenza scolastica e per l'autonomia. Guasto all'ATAC e posti letto carenti proteste al Veneziale di Isernia. Fiat di Termoli, assunzioni e conferme per 322 precari, ma niente proroga per altri 150. La Wilm chiede soluzioni da Frosolone. Festa del 1 agosto, i vincitori della sfilata dei carri allegorici. Molisano, la cronaca quindi Molisano, originario di Toro, ucciso in Venezuela durante un tentativo di sequestro. Fondo sanitario al Molise attribuiti 576 milioni di euro. Ma Toma, dice, è una somma insufficiente. Passiamo adesso alla prima pagina di Primo Piano. La cronaca in apertura. Imprenditore molisano assassinato a Maracai. La tragedia durante un tentativo di sequestro. Elio Giuseppe Simonelli ha perso la vita nel conflitto a fuoco tra la polizia venezuelana e il commando che lo aveva preso in ostaggio. Non è chiaro se il colpo mortale lo hanno esploso gli agenti o i rapinatori. Sgomento a Toro dove vive l'anziano padre del 49enne. Le altre notizie adesso su primo piano. Abusivi. Litorale passato al setaccio. Si parla di una operazione interforza. Andiamo invece adesso a Pesco Lanciano. Il sindaco querela i gestori del centro di accoglienza. Da Isernia a Scuole Sicure. Da Pollonio tira dritto due poli. San Basso. Previsto vento. A rischio la processione. Poi di spalla si parla di sanità su primo piano. Commissario. Il Movimento 5 Stelle insiste. È necessario che sia un esterno. Restiamo ai fatti della politica. Toma dialoga con Emiliano. Zona economica speciale. Il Molise va con la Puglia. Da Termoli. Mondo del lavoro. La Fiat conferma 322 dei 491 precari. Ma i sindacati non sono soddisfatti. Vediamo adesso le notizie sportive. Mandragora. Selvapiana. Occorrono testa e gambe. È la prima intervista dell'allenatore. Il tecnico dice sfida affascinante in una piazza storica. Sempre le notizie sportive su primo piano. Che è della Coviso. D'ora è ufficiale. Campobasso riammesso nel torneo di D. Mercato. Tris di giovani in arrivo. Vicini. Palmieri. Pezzella. E del Prete. E adesso andiamo al quotidiano del Molise. Anche qui c'è la cronaca in apertura. Sequestrato e assassinato molisano in Venezuela. La vittima è il 51enne originario di Toro. Elio Simonelli. Noto imprenditore che viveva a Maracai. Uccisi anche i cinque banditi. Le notizie in taglio alto sul quotidiano. Sanità ancora disagi. Ai serni attac fuori uso. I sindacati dicono. Urge un tavolo di crisi. Antonio Federico. Del Movimento 5 Stelle. Dice. La rete dell'emergenza. Torni al pubblico. Si parla poi di scuola. Personale ATA. Previste 52. Immissioni. In ruolo. Toma. Scarica. D'Alfonso. Scrive il quotidiano. Zona economica speciale. Adriatica. Il Molise. Chiede l'adesione. Alla Puglia. Andiamo adesso a centropagina Montaquila. Tir si ribalta sulla strada statale 158. Miracolato. Il conducente. Licenziamenti Conad. I sindacati dicono inaccettabili. 35 esuberi. Ieri l'incontro con il governatore. Da Termoli. Fiat assunti oltre 300 interinali. Ma la produzione è in calo. Da Isernia sospetta overdose. Professionista in rianimazione. Le notizie sportive. Il direttivo della Lega Nazionale di Lettanti. Campo Basso. Riammesso in Serie D. Ora si aspetta il Girone. Mercato. Spinelli e Dorsi. In rosso-blu. Ecco. Pezzella. Palmieri. E del Prete. E in chiusura della rassegna stampa dedicata alle pagine locali. Andiamo sulla home page di Futuro Bolise. Anche qui la cronaca in apertura. Imprenditore molisano ucciso in Venezuela durante un tentativo di sequestro. Le altre notizie. Sanità. I sindacati richiamano l'ASREM e la regione alle rispettive responsabilità. Il nostro sistema sanitario rischia un declino irreversibile. Zona economica speciale adriatica. Il Molise chiede l'adesione alla Puglia. Da Pesco Lanciano la Prefettura concede l'idoneità alla struttura che dovrebbe essere adibita a centro di accoglienza per migranti. Passiamo adesso alle pagine nazionali. Il Corriere della Sera. Doppia apertura. Presidenza Rai. Foa rimane in campo. Salvini dice nessuna retromarcia sul suo nome. L'altra apertura riguarda invece un giallo del quale si parlerà certamente nelle prossime ore e nei prossimi giorni. L'attacco al Colle via Twitter. Il caso nella notte del no a Savona. Creati 400 profili. Chiedevano le dimissioni di Mattarella. Alcune firme del Russiagate dietro i messaggi contro il capo dello Stato. Lasciamo il Corriere della Sera. Andiamo su Repubblica. Salvini. Sulla Rai non si cambia. Pronto il blitz sui direttori dei TG. Polemica per il figlio di Foa. Assunto dal Vice Premier. La Camera approva il decreto dignità. Poi Repubblica propone un approfondimento, un'inchiesta. Ritorno nella città sei mesi dopo il raid razzista. Macerata il laboratorio della paura. Lasciamo Repubblica e andiamo sulla stampa di Torino. Si parla di lavoro in apertura. C'è il via libera al decreto dignità. Ma il rischio Italia agita i mercati. La Camera approva le norme sui precari e sui gratta e vinci. Arriva la scritta. Nuoce alla salute. Spread a quota 250. Scrive la stampa. Male le borse. Oggi vertice sulla manovra. Lega e Movimento 5 Stelle in pressing su Tria. Restiamo sempre sulla stampa con una foto. Notizia. Una mela da mille miliardi. Apple vale quattro volte la Grecia. Scrive la stampa. Andiamo adesso a vedere invece l'apertura di Libero. Troppi medici picchiati. Arrivano i soldati in corsia. A questa l'apertura il governo manda i militari in ospedale. Il 66% dei dottori ha subito violenze verbali o fisiche sul lavoro. Nei pronto soccorso si sale all'80%. 10 casi di aggressioni al giorno. La Ministra Grillo dice è un'emergenza. Poi a centropagina si parla di un inossidabile, di Pierferdinando Casini, ennesima poltrona Casini. L'inaffondabile, scrive Libero, Pierferdi eletto. Pure con i voti di Lega e Movimento 5 Stelle alla guida dell'interparlamentare italiana. Restiamo sempre sul Libero con la cronaca. Il tiratore di uova è un figlio del PD. Scrivono tre ragazzi colpirono Deisi. Niente razzismo. Una goliardata, hanno detto. E Libero, Chiosa, dicendo una goliardata democratica. Lasciamo Libero e andiamo sul messaggero. All'Italia, compagnia di Stato, l'operazione ora è possibile, scrive il quotidiano romano. Picco di passeggeri e perdite ridotte. I dati del semestre favorevoli al rilancio. Serve un socio straniero e aerei di lungo raggio, contatti con EasyJet e Lufthansa. Restiamo sempre sul messaggero. Dalla scuola ai giochi. Ecco il decreto lavoro. Scambio, Movimento 5 Stelle. Ok della Camera, oggi vertice sui conti. Il patto che favorisce gli autonomisti del Nord, scrive il messaggero. E adesso l'informazione economica con il sole 24 ore. Sul tavolo di Conte il dossier Nava Consob ne prende atto. Questo il titolo di apertura che fa questa mattina il sole 24 ore. Poi c'è un'intervista al presidente di Telecom Conti. Nell'interesse dell'Italia, una rete unica di TLC. Passiamo adesso al manifesto. La chiamavano dignità. Questo è il titolo di apertura. Alla Camera il voto finale sul decreto dignità del ministro Di Maio. Prevede la stretta sui contratti a termine. Indennizzi più alti ai licenziati. Ma contraddice la lotta alla precarietà con l'estensione dei voucher in agricoltura, turismo e enti locali. Protestano i sindacati. Questo è il titolo del manifesto di questa mattina. Il mattino di Napoli. Vediamo qual è l'apertura. Lega Movimento 5 Stelle. Lo scambio anti-sud. Sì, della Camera al decreto lavoro. Critiche soft per avere il via libera. Sprint all'autonomia di Lombardia e Veneto. Pressing del carroccio sulle imprese del nord. Stretta giochi. Gratta e vinci. Con la scritta. Nuoce alla salute. Poi sul mattino vediamo questa notizia che ritroveremo anche nella sezione dedicata allo sport. Dramma. Niki Lauda. Trapianto al polmone. È in pericolo di vita. Lasciamo il mattino e passiamo all'altro quotidiano romano. Il tempo. Io, cronista aggredito dai Rom. Questa l'apertura. Il giornalista del tempo ha salito. Gli sgomberati del River occupano un hotel. Sgradita la presenza del nostro inviato per lui. Mani addosso e minaccia di morte. Restiamo sempre sul tempo. Presi i tiratori di uova razziste. Ops 1 è figlio di un politico Dem. Questo dice il tempo. Passiamo alla verità che apre sempre sul caso delle uova. Il papà di Daisy che attacca Salvini, condannato a 5 anni per mafia. Il caso di Moncalieri. Restiamo sulla verità e andiamo a centro pagina. Si parla di banche. Da Banca Etruria. Un milione al tesoriere di Messina Denaro. Il prestito scrive la verità grazie al membro del CDA che aprì le porte a Boschi. Il riferimento è al papà dell'ex ministro. Passiamo al secolo d'Italia. Andremo d'accordo. Questo è il titolo rassicurante che fa il secolo d'Italia. con riferimento alle parole di Silvio Berlusconi che torna a ribadire l'unità del centro-destra. Vediamo le altre notizie in primo piano. Moncalieri presi i tre ragazzi. Razzismo scrive il secolo. No, si tratta di una goliardata come hanno dichiarato. Caso Rai, Foa risponde con classe. Servirò la Rai con rigore. E in chiusura di rassegna stampa, come di consueto, andiamo a vedere le notizie sportive con la Gazzetta dello Sport. L'apertura è dedicata a Gonzalo Higuaini. Il colpo del Milan, scrive la Gazzetta, pipita a febbre a 90. Higuaini infiamma la tifoseria rossonera. Sono molto contento, dice l'ex bomber della Juventus. prenderà il numero 9 nel Milan. Restiamo sempre sulla Gazzetta, dove si parla di Niki Lauda. Dramma Lauda. Niki è gravissimo. Trapianto di polmone d'urgenza a Vienna. Bene, con le notizie sportive si chiude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti l'agurio di una buona giornata. A voi tutti l'agurio di una buona giornata. A voi tutti l'agurio di una buona giornata.